le onde del mare stiamo arrivando con un nuovo show un nuovo fantasmagorico, fotonico un nuovo fotonico show di Radio Jova Beach la radio più scancherata è una palafitta praticamente noi siamo una palafitta sulla spiaggia una chiatta a largo delle isole Samoa ci potete trovare perché noi durante l'inverno in realtà ci spostiamo in questi mesi freddi mentre prepariamo Jova Beach veniamo da queste parti tra la Polinesia e la Micronesia la Nuova Zelanda, le Hawaii insomma voi ci potete cercare se urlate forti ci trovate